Buongiorno, mi trovo oggi a Pregassona, vi mostro due mezzo locali al piano terra, in una palazzina che è in fase di terminazione, praticamente l'ultima azione. In ingresso abbiamo porta blindata, di qua si sviluppa la zona giorno, la luce che rientra, e di qua abbiamo la camera con il suo bel bagnone. Cominciamo dal bagno, bagno completo di lavabo con cassetto, specchio, qui grande box doccia, bidet, water, e qua accanto c'è l'attacco per la lavatrice o asciugatrice dell'inquilino privata. Quindi la camera, ogni locale ha il termostato per regolare la temperatura delle serpentine. Abbiamo un altro d'ingresso a questo armadio muro, molto comodo, giacche, scarpe, corse, qualche altro. Vado ancora a montare i piani, videocitofono, questa è tutta la zona del salotto, soggiorno, con l'uscita poi su questa bella terrazza con giardino privato. Cucina, allora abbiamo il frigorifero a questa parte, qui sotto invece il congelatore a tre cassetti, dobbiamo ancora sistemarlo. Forno, forno ad aria calda, di qua la lavastoviglie, molto comoda negli appartamenti piccoli, nego e mezzo, questa addirittura una di quelle grandi. e piano cottura a induzione, no, vetro ceramica, perdonate. Tutti elettrodomestici sono Electrolux. Andiamo a vedere il rubinetto, porta scorrevole, il rubinetto di elettricità. Questo è uno spazio del giardino privato. Non mi aspettavo neanche così grande. Bene, grazie, ti affitto. Grazie. Grazie.